Una Milano da bere in un momento di tanta gioia, un momento di tanti amici, una artista, possiamo dire un artista del campo della visibilità, come no? Non confondiamo, gli artisti sono delle persone seri. No, no, tu sei un artista della camera, perché comunque, della camera, videocamera, la una, la due, la una. Perché? Perché con la tua simpatia, con la tua capacità e con la tua semplicità, sei riuscita... Guarda come sono semplice! Ma sei ragione! Un bel primo piano, Lucia! Qualcuno potrebbe arrabbiarsi? No, nessuno! No, che bello! No, in zero! No, invece, Lucia, la tua semplicità e tu, proprio, col tuo riuscire a saper fare, sei riuscita a entrare nel cuore degli italiani, perché oggi ti amano, ti seguono. Soprattutto, mi piace ricordare questo, mi seguono tanto le donne, ed è la mia soddisfazione più grande. Perché sei la loro beniamina! Perché non lo so, perché sono così! Ma perché si rivedono... No, ma che bello che sia così! Normale! Si rivedono nella tua persona e vorrebbero essere Lucia Bramieri, probabilmente perché, care signora a casa, difficoltate un po'. Ma a te così come me, anche meno! No, vabbè, però sì, è vero, grazie! Sei veramente capace! Mi sono orgogliosa di questo! E beh, Lucia ha una grande novità, perché, comunque... Scoop! Uno scoop! Scoop! E lo possiamo dire? Certo! Ok, dal primo luglio, primo luglio, tutte le radio... Del mondo! Ma sicuramente in Italia, perché ho visto già nella brochure il tuo nome e il titolo... Abbiamo addirittura radio del Brasile, ragazzi, ho paura! Andremo in Brasile! Perché? Ma come andremo? Ci andremo col cu! Col cu! Col cu! Col cuore! E il nuovo brano di Lucia Bramieri! Una bramierata, una trashata pazzesca! Parla d'amore! Di amori strambi! E quindi è tutto da ascoltare e da vedere! Lucia, adesso definiscici un l'amore strambo! Noi che siamo di mente aperta, basta solo una coperta col cu! Col cu! Col cuore! Lucia Bramieri, grazie per essere qua! Grazie!